Il 5% degli studenti soffre di disturbi dell'apprendimento, l'appello a aiutare le famiglie a sostenere le spese dei trattamenti. Locale in via Traversa Pistoiese è chiuso nuovamente dal questore, all'interno trovati droga e clandestini. Caro Energia, per le imprese aumenti anche oltre il 400%, CNA serve subito un tetto al prezzo del gas. Si è aperto il Tribunale di Acesano per la beatificazione di Renzo Buricchi, il tabaccaio di Prato. Il Prato prova a voltare pagina dopo la sconfitta contro la Pistoiese e non sarà facile in casa della capolista Gianna Erminio. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. È tornata a svolgersi in presenza a Prato la giornata dell'apprendimento digitale. In primo piano i risultati dell'indagine su studenti e disturbi dell'apprendimento. Ce ne parla Diletta Bezzi. In Toscana e a Prato il 5% degli alunni soffre di disturbi specifici dell'apprendimento. Il dato è stato fornito dall'ufficio scolastico regionale toscano in occasione della giornata di apprendimento digitale che si è aperta proprio con un focus su DSA e benessere dei ragazzi. Su circa 500.000 studenti nelle scuole toscane abbiamo quasi 26.000 studenti certificati con disturbo specifico dell'apprendimento con certificazioni di diverso tipo quindi sia da struttura pubblica sia da ente accreditato ma anche certificazioni da liberi professionisti perché le scuole naturalmente prendono atto del disturbo e quindi possono intervenire a livello didattico. L'importante è comunque che ci sia una consapevolezza e anche la famiglia sappia assolutamente come muoversi. A tal proposito è fondamentale una tempestiva presa in carico dei ragazzi con appropriati trattamenti per rispondere al disagio e prevenire futuri conseguenze sulla salute mentale. Attualmente abbiamo più di 90 equip riconosciute dalla regione toscana purtroppo l'onere è sempre a carico delle famiglie al momento e quindi stiamo lavorando affinché non diventi una spesa per le famiglie ottenere una diagnosi di qualità e che appunto non rappresenti un costo e quindi intervenire adesso e intervenire in maniera efficiente affinché i ragazzi possano svolgere il loro percorso scolastico e di vita nel modo più sereno possibile. Tornata finalmente in presenza la giornata dell'apprendimento digitale è giunta alla settima edizione l'organizzazione dell'Associazione Italiana di Slessia di Prato. Abbiamo oltre 35 istituti scolastici del territorio di Prato ma anche di tutte le province della Toscana e questo ci fa veramente tantissimo piacere perché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono qui insieme a noi a presentare i loro progetti. Un'iniziativa dedicata a conoscere e approfondire l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'apprendimento attraverso musica, sport, teatro, laboratori, conveni e la presenza di professionisti del settore. La giornata dell'apprendimento digitale è una giornata nella quale si sceglie di parlare di tecnologia ma soprattutto di tecnologia a servizio della didattica e la tecnologia inclusiva cioè in modo che i ragazzi, le famiglie pensino alla tecnologia come uno strumento a disposizione per la loro creatività e non uno strumento da subire o da non conoscere ma è uno strumento con il quale si possono fare tante cose. Un locale situato in via Traversa Pistoiese è stato chiuso per 40 giorni dal questore di Prato Giuseppe Cannizzaro. Il provvedimento è scattato in seguito al controllo eseguito ieri sera dalla polizia che ha portato al rinvenimento e al sequestro di droga e di 8.500 euro in contanti ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'attività del locale a conduzione cinese era già stata sospesa per 15 giorni lo scorso agosto per motivi analoghi. Due dipendenti orientali del locale sono stati denunciati per il reato di agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti mentre una trentenne cinese è stata denunciata per il reato a uso di atto falso. Altri 14 connazionali, clandestini sono stati deferiti per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. Nei confronti del titolare, cinquantenne cinese, sono state elevate sanzioni amministrative per inadempienza della sorvegliabilità e per assenza dei prezzi di somministrazione. Indagine di CNA sul caro energia. Le imprese hanno subito aumenti fino al 445%. L'associazione chiede che venga fissato subito un tetto al prezzo del gas. I particolari nel servizio di Marco Manzo. Sul tema del caro energia e dell'impatto sulle aziende torna CNA Toscana Centro alla luce dei dati allarmanti dell'ultima indagine realizzata su un campione di 150 aziende da Prato e Pistoia di ogni tipologia che rientrano nei maggiori settori produttivi territoriali. Ad essere più colpiti dal boom dei rincari sono stati il comparto turistico, la meccanica di produzione, il tessile e l'alimentare. In particolare il settore del turismo registra aumenti del 353% con picchi del 445%. Le aziende del tessile registrano un aumento medio del 172% con picchi che arrivano fino al 356%. Nella meccanica di produzione l'aumento medio del 180% con picchi stratosferici che arrivano al 482% mentre il settore alimentare ha subito un incremento medio sulle bollette del 151%. Se queste quattro grandi macro aree registrano la situazione peggiore di fatto però anche gli altri settori produttivi senza esclusioni stanno vivendo un'emergenza energetica insostenibile come confermato dall'indagine. Sempre come emerge dall'indagine il 69% degli intervistati si è visto applicare aumenti tariffari negli ultimi sei mesi. Quasi il 10% ha già ricevuto disdetta unilaterale del contratto. Il 33% del campione è stato costretto a cambiare fornitore di energia. Inoltre il 18% è stato costretto a ricorrere alla reteizzazione delle bollette. Per tentare di allentare almeno in parte la morsa dei rincari energetici circa il 30% delle imprese intervistate ha scelto di modificare l'organizzazione del lavoro riducendo l'orario anche con un giorno in più di chiusura oppure modificando i turni di lavoro. Guardando al futuro poi emerge tutta la disperazione degli imprenditori visto che quasi la metà dichiara di prevedere di non proseguire l'attività se i costi energetici non diminuiranno. Il 24% prevede di ricorrere ad ammortizzatori sociali. Per il presidente di CNA Toscana Centro Claudio Bettazzi serve subito a un fondamentale intervento condiviso a livello europeo a cominciare dal tetto temporaneo del prezzo del gas per evitare che migliaia di aziende chiudano. Le imprese non possono più aspettare ha detto Bettazzi. Da alcuni giorni avevano notato un andi rivieni di persone da un fondo commerciale in via Cava. Iolo per questo e i carabinieri hanno deciso ieri di intervenire per effettuare un controllo approfondito. All'interno dei locali sono state rinvenute migliaia di capi di abbigliamento falsificati e riemportanti le griffe più note della moda. Moda, scarpe, camice, pantaloni e altri articoli tutto falsificato e pronto per essere venduto per un valore di svariate migliaia di euro. La merce è stata sequestrata mentre un cittadino cinese di 43 anni è stato deferito alla procura della Repubblica di Prato. Dopo la pubblicazione dell'editto stamani in San Domenico si è costituito il Tribunale diocesano per la beatificazione di Renzo Buricchi il tabaccaio di Prato. Vediamo. È iniziata la causa di beatificazione di Renzo Buricchi il laico conosciuto come il tabaccaio di Prato. Si è infatti aperta l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e di segni di Buricchi già dichiarato dalla Chiesa come servo di Dio. Oggi nella sala capitolare di San Domenico si è tenuta la prima sessione aperta al pubblico. Nell'occasione è stato costituito il Tribunale diocesano l'organo che ha il compito di raccogliere testimonianze e documenti utili per attestare la santità di Buricchi. Ogni persona che ha lasciato un segno una traccia, un dono di Dio per la Chiesa locale e anche per la società civile per cui noi accogliamo la vita, l'opera, l'insegnamento di questo piccolo, semplice, umile ma grande personaggio e grande cristiano con questo senso di gratitudine nella speranza e comunque poi nell'abbandono a Dio perché faccia di Lui e di tutti noi quello che crede meglio per il bene sempre di tutti. Dopo la pubblicazione lo scorso giugno dell'editto e la Costituzione della Commissione Storica che sta già facendo ricerche per accogliere la documentazione su Buricchi si era insediato il Tribunale Ecclesiastico diocesano i cui membri sono stati nominati dal Vescovo Nerbini il Presidente e il Canonista Don Marek Sigut il Notaio Stefano Attucci il Promotore di Giustizia e il Canonista Don Daniele Rialti e il Postulatore Don Alessandro Andreini Inizierà via via l'ascolto di una trentina circa di testimoni di persone che l'hanno conosciuto e poi anche coloro che non l'hanno conosciuto ma che ne sono diventati estimatori tutto questo materiale verrà portato a Roma presso la Congregazione delle Cause dei Santi e la fase diocesana di questo lavoro si concluderà io immagino che lo si potrà fare proprio in occasione dei 40 anni della morte di Renzo Nato a Siano nel 1983 di estrazione contadina e comunista Burichi per oltre 40 anni è stato barista e tabaccaio in piazza del comune morto il 6 ottobre del 1983 ha nutrito un amore profondo per l'uomo e per il mistaro che lo lega a Dio e a Cristo la sua storia il suo nome la sua originale teologia iniziarono ad essere noti a più grazie al libro Un Cipresso per Maestro scritto dal suo biografo amico e testimone Marcello Pierucci Questo uomo ha avuto un'intima spiritualità vissuta nella preghiera silenziosamente che ha dato dei frutti che tutt'oggi ne scopriamo continuamente l'importanza scontro municipale della Val di Bisenzio e i carabinieri la strada è stata chiusa al traffico e la viabilità ha deviato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso Un incendio sono terminate le celebrazioni per i 30 anni della provincia di Prato per l'occasione nel pomeriggio si sono tenute visite guidate gratuite a Palazzo Banci Buonamici e una tavola rotonda sui primi tre decenni dell'ente sulle prospettive future questa mattina invece nel salone consigliare l'incontro provincia di Prato 30 anni di cronaca a cura dell'associazione UCSI Toscana e dell'ordine dei giornalisti della Toscana a cui è intervenuto anche il direttore di TV Prato Gianni Rossi vediamo quindi le interviste raccolte da Giacomo Cocchi come si raccontò 30 anni fa questa conquista così agognata della provincia di Prato si raccontò come un traguardo che era stato ricercato insistentemente da tutta la città e quando dico tutta parlo delle elite politiche amministrative anche imprenditoriali e dallo stesso popolo che era molto interessato che teneva molto in senso forse campanilistico ma non solo a ottenere questo riconoscimento per una città che era dilagante per quanto riguarda il lavoro la ricchezza che produceva e povera dei uffici pubblici di servizi era una figliasta di uno Stato che restituiva veramente poco a questa grande figlia insomma Cos'è oggi la provincia 30 anni dopo? 30 anni dopo noi sinceramente speravamo che fosse qualcosa di più importante perché come sappiamo le province purtroppo con la legge del Rio del 2014 sono state ridotte a enti di secondo grado e quindi non ha né l'autonomia né le risorse che aveva quando noi ci battevamo per la provincia e le province erano proprio un ente amministrativo molto importante per tutto il territorio non solo per il capoluogo ma per tutti i comuni come oggi cercano il nostro presidente anche Pugelli con impegno di farla diventare la provincia dei comuni e non la provincia del capoluogismo che noi abbiamo sempre combattuto come si racconta Prato la provincia di Prato 30 anni dopo l'acquisizione di un traguardo così importante come la provincia allora Prato per i pratesi è sempre e solo Prato e quindi ha una sua specificità dal punto di vista economico politico sociale da tutti i punti di vista anche Prato ha bisogno di fare squadra ha bisogno di guardarsi non solo dalla sua provincia tanto voluta tanto conquistata e ancora oggi tanto utile diversamente rispetto ad altre zone dell'Italia e quindi guardarsi un pochino più altri quindi collaborare con Firenze con Pistoia con Lucca con le altre zone della Toscana che un po' gli assomigliano con cui condividono delle strade secondo me Prato va raccontata così dentro la città ma sempre con uno sguardo anche esterno e che tiene insieme le realtà vicine senza perdere la propria identità Umberto Galimberti e protagonista di un Prato di libri il noto psicanalista filosofo e giornalista sarà ospite del Festival della letteratura per bambini che si tiene dal 2012 a Prato l'appuntamento è per martedì 11 ottobre alle 21 al Teatro Politeama e se fosse la relazione il fondamento della nostra identità il tema della serata che sarà introdotta da Diana Toccafonti già soprintendente archivistico della Toscana e attualmente presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e da Stefano Coppini ideatore e curatore della rassegna letteraria Libri d'Italia l'ingresso sarà libero e senza prenotazione ultima giornata oggi del centro PC Books Festival di cui TV Prato e Media Partner ieri sera c'è stata la presentazione dell'anno del fascismo 1922 cronache della marcia su Roma il nuovo saggio di Ezio Mauro già direttore dei quotidiani La Repubblica e la Stampa Giulia Ghizzani lo ha intervistato per noi Anteprima nazionale questa sera di questo suo progetto editoriale come ha lavorato per la ricostruzione storica appunto? Ho lavorato per più di un anno ho cominciato un anno fa e ho lavorato sui documenti dell'epoca sui materiali che ho trovato in alcuni centri tipo la fondazione Feltrinelli su altri materiali che vedendo le puntate che sono uscite su Repubblica poi nel libro sono molto ampliate vedendo queste puntate dei cittadini sconosciuti a me mi hanno telefonato mi hanno scritto aprendo i cassetti di famiglia e dandomi dei materiali come ad esempio quello del prefetto di Livorno del 22 che organizza ho visto i documenti scritti a mano di suo pugno organizza una difesa militare dalla marcia se arriveranno dal sud se arriveranno dal nord se arriveranno via mare predispone il numero di uomini e le postazioni dove le forze di contrasto devono prepararsi per intercettare i fascisti e cacciarli quindi si poteva fermare la marcia su Roma forse non si poteva fermare il fascismo che godeva di un forte consenso popolare in quel momento dopo che si era spianato la strada con la violenza squadrista ma la marcia su Roma si poteva fermare l'intervista integrale a Ezio Mauro sarà trasmessa questa sera nel corso dell'ultima puntata di intorno alle nove speciali PC Books Festival in onda subito dopo il nostro telegiornale delle 20 e 30 la ritrovate poi anche sul sito internet tvprato.it il taglio di una grande scenografica torta più piani aperto oggi pomeriggio la seconda edizione di Dolce Stil Buono la manifestazione promossa dal comune di Vaiano in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato per la valorizzazione del distretto della pasticceria pratese e toscana l'iniziativa è dedicata quest'anno al tema dolci e benessere il weekend dei golosi proseguirà anche domani sempre alla villa del mulinaccio dalle 10 alle 18 e 30 ci sarà la possibilità di degustare le specialità preparate per l'occasione da 14 straordinari artisti artigiani della pasticceria in programma anche una mostra a mercato show cooking laboratori per bambini e visite guidate alla villa l'ingresso di 5 euro a persona i bambini fino a 12 anni non pagano viene devoluto a Caritas Vaiano e all'associazione aiuti della vallata per il progetto sostegno alle famiglie passiamo adesso allo sport al calcio dopo il derby contro la Pistoiese il Prato torna in campo domani a Gorgonzola per affrontare la Gianna Erminio che guida la classifica l'accesso alla partita sarà gratuito per tutti i tifosi come deciso ad inizio stagione dalla società Lombarda per tutte le gare della stagione in corso siamo solo all'ottava giornata eppure la sfida di domani per il Prato rappresenta già un crocevia importante della stagione una gara che a seconda dell'esito potrà dire molto sul ruolo che la squadra biancazzura può recitare in questo campionato d'altronde i numeri in questo caso sono emblematici la formazione di Gorgonzola è prima in classifica 8 punti più del Prato non ha mai perso e al miglior attacco del torneo di contro i biancazzuri dopo le due vittorie nelle prime due giornate hanno raccolto solo 3 punti nelle successive 5 un ruolino di marcia che ha già scavato un bel solco con i Lombardi ma anche rispetto a Forlì Aglianese e Fanfulla che li seguono a ruota e che in caso di una malaugurata la nuova sconfitta della formazione di Favarino spederebbe il Prato addirittura a meno 11 dalla testa uno scenario al quale chiaramente società, tecnico e tifosi non vogliono pensare ma è indubbio che quella di domani sarà una sfida molto complicata perché l'avversario è forte perché il derby perso con la Pistoiese ha lasciato in dote l'amarezza per il risultato e un arbitraggio discutibile la squalifica del capitano Shannamè punito severamente con tre giornate di squalifica dopo l'espulsione e l'infortunio a Frugoli Staura Favarino riuscirà a ricaricare mentalmente i suoi e soprattutto riuscirà a dare incisività ad un attacco che finalizza troppo poco per quanto la squadra produce con la Pistoiese Colombi che pure un paio di chance le ha avute è apparso poco supportato e anche nelle volte in cui gli esterni sono arrivati al cross dal fondo i biancazzuri hanno fatto fatica a riempire l'area di rigore avversaria lasciando da parte il capitolo sulle decisioni arbitrali la base da cui ripartire c'è perché sul piano del gioco il Prato nel derby ha fatto bene è stato armonico e propositivo concedendo pochissima agli avversari e venendo punito su un episodio da palla inattiva ma le partite si sa se vincono se si segnano i gol ed è questo il primo aspetto che il Prato deve migliorare e sentiamo adesso le parole dell'allenatore del Prato Giancarlo Favarin su assenze e recuperi ma anche sugli avversari di domani rientra a scena a disposizione è chiaro che Frugoli in questo momento è fermo rientrano a disposizione Angeli e Soldani non so quanto potranno essere della partita però sicuramente il loro contributo lo daranno al momento che sono presi in considerazione c'è da portare rispetto a una squadra che prima in classifica dopo otto giornate ha dei giocatori chiaramente di ottimo livello perché hanno mantenuto l'ossatura dell'anno scorso della Serie C quindi sappiamo benissimo che andiamo a fare una partita contro una squadra di livello però noi non andiamo senza paura cercheremo di dare il nostro penso che l'altra sera l'abbiamo dimostrato possiamo giocare a buoni livelli e poi vediamo anche perché speriamo che un pochino di fortuna ci sia da parte nostra noi in questo periodo abbiamo visto tre partite di loro anche quelle che hanno vinto 6 a 1 con Sant'Angelo fino al 74esimo erano 0 a 0 quindi è una squadra che ha una rosa di qualità cioè al momento che fanno i cambi non calano di qualità hanno sempre i giocatori presso a poco tutti uguali e quindi ecco anche i cambi che fanno sono cambi importanti è il momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato ed intorni domani domenica 9 ottobre dalle 8 alle 19 in via di Reggiana mercato a cura del consorzio il mercato dalle 9 alle 17 e 30 in piazza Lippi mostra mercato fiera del libro e dell'arte dalle 9 alle 19 in piazza Santa Maria delle Carceri Prato Antiquaria mercatino di oggettistica collezionismo e vintage dalle 10 e 30 alle 19 la Galleria di Palazzo degli Alberti giornata nazionale delle famiglie al museo visite guidate gratuite è consigliata la prenotazione dalle 10 alle 19 officina giovani disco cd e dvd mostra mercato usato e da collezione dalle 10 e 30 la Villa del Mulino a Ciavaiano dolce e stil buono degustazioni show cooking mostra mercato iniziative varie alle 16 alle 21 al Teatro Politeama a un certo momento all'inferno rivista delle pagliette del Buzzi e infine lunedì 10 ottobre alle 17 all'istituto comprensivo statale Bartolini di Vaiano cent'anni di passione lotte e vita sociale a Vaiano e in Val di Bisenzio storie e memorie ricostruite con Fierenzo Fionghi presentazione del volume di Annalisa Marchi e Alessia Cecconi e con l'agenda è tutto vi lasciamo adesso all'ultima puntata di intorno alle nove speciali Pecibooks Festival vi ricordiamo infine che domani sera alle 21 dopo Prato 7 andrà in onda la prima puntata del format dedicato al festival di editoria religiosa Ascoltare Leggere Crescere grazie per averci seguito e arrivederci a Grazie a tutti.